Alle poste di Sassari e Provincia è ora possibile rinnovare il bollo auto in maniera pratica e veloce. Per farlo basta accedere al sito di Poste Italiane oppure tramite l'app, un servizio che i correntisti di BancoPosta e i titolari di carte PostPay possono effettuare direttamente dal loro conto. Per ottenere il pagamento basta inserire la regione e la provincia di residenza, la targa e il telaio ed infine il tipo di veicolo e l'eventuale riduzione. In automatico il sito si collegherà con l'archivio automobilistico riferendo in tempo reale l'importo del bollo auto, comprensivo di eventuali more e interessi delle annualità precedenti. Inoltre vi è garantito un cashback di Stato a chi usufruisce del pagamento con carte di debito BancoPosta o con carte prepagate PostPay, carte di pagamento del circuito V-Pay, Maestro, Visa, Mastercard e American Express, con uno sconto del 10% sull'importo della tassa automobilistica. Mentre per i pagamenti superiori ai 150 euro è garantito un cashback di 15 euro. Anche Poste assicura tramite operazioni negli uffici un euro di cashback su un totale di spesa di a 10 euro, oltre al 10% di cashback dello Stato. Un'altra valida alternativa per pagare è tramite l'inquadratura del telefono del codice QR autorizzandosi direttamente dall'app PostPay.